grazie fiorenzo grazie a te a sabrina l'associazione realtà allo specchio per avermi invitato qui in mezzo a tutta questa bella gente e grazie a questa bella gente di essere presente qui a parlare di un tema che quando io iniziai a fare ricerca trent'anni fa era ritenuta roba da scemi da fuorviati da mentecatti e così via adesso vorrei vedere le facce di quelli del cicat visto che l'altro giorno o comunque giorni fa la marina militare americana ha ufficialmente ammesso che questi misteriosi mezzi volanti che compiono manovre impossibili ai nostri mezzi aerei di qualsiasi genere tipo sono veri sono reali e credo sappiate che prima di ammettere questo la marina ha reso pubblici tre video tre filmati realizzati dalle telecamere sofisticate montate a bordo dei caccia militari dell'arina americana non era mai accaduto prima dopo 70 anni di depistaggi di inganni di menzogne incredibilmente i militari ammettono e ammette la più grande potenza del mondo gli stati uniti d'america ora la cosa a livello sociale non è stato grande stupore o forse la notizia è passata un po inosservata non so voi ditemi la sapevate parte si parte no guardate che la notizia è stata pubblicata da tutti i maggiori giornali corriere della sera repubblica ne sta parlando tutto il mondo c'è un problema noi abbiamo l'assoluta certezza perché abbiamo le prove che gli stati uniti d'america e altre nazioni del mondo come la russia posseggono navicelle extraterrestri da decenni abbiamo i documenti militari desecretati che gli stati uniti d'america posseggono dischi volanti fin dal 1941 cioè dai primi anni della seconda guerra mondiale possediamo i documenti militari americani desecretati dove ci sono le analisi dell'equip di ingegneri che è salita a bordo del disco volante ha fatto l'ispezione tecnica non ci hanno capito granché perché nel 1941 e nel 1947 trovano a bordo fibre ottiche laser touchscreen tutta roba che all'epoca era assolutamente fuori portata gli ingegneri si stupiscono che non ci siano alettoni ali niente dell'avionica tradizionale molto interessante perché il documento è molto tecnico c'è la classica attitudine tipica degli ingegneri freddi non hanno una particolare emozione siamo a bordo di una navicella extraterrestre fanno la loro relazione e la consegnano alla gerarchia militare ora nel 1952 dopo una serie di sorvoli durati giorni sopra la casa bianca di questi mezzi volanti considerando che la casa bianca è spazio aereo rigorosamente vietato al sorvolo perché c'è il governo degli stati uniti quindi questi mezzi impunemente sto parlando di notizie che hanno fatto il giro del mondo per quasi una settimana volavano sopra la casa bianca ovviamente i caccia militari si levarono in volo è stato scritto sui giornali dell'epoca fu dato l'ordine di abbatterli ma i piloti dissero come si può abbattere un mezzo che da 4 500 chilometri l'ora in un paio di secondi arriva a 10.000 come fai ma siccome questi mezzi furono visti sopra washington da tanta tanta gente praticamente incominciò a serpeggiare nella popolazione il timore che ci fosse un'invasione aliena i mezzi volanti furono individuati dalle basi militari intorno a washington furono individuati dal radar dell'aeroporto civile di washington insomma ci sono tutte le prove di questo sorvolo la psicosi fu talmente forte che il ministero della difesa americano per sedare e placare gli animi indisse una conferenza stampa dentro il pentagono furono chiamati giornalisti con le cineprese e diede un comunicato ufficiale il generale che era capo dei servizi segreti dell'aeronautica non uno qualsiasi il generale john sanford la sua dichiarazione è filmata e la trovate anche su youtube e cosa dice il generale dice ci sono abbiamo una casistica di cui molte cose le abbiamo spiegate con fenomeni comuni quindi diciamo i testimoni si sono ingannati però dice il generale testuali parole c'è una casistica di fatti incredibili testimoniati da persone credibili ora quello era il capo dell'intelligence dell'aviazione chi erano queste persone credibili testimoni che parlavano di cose incredibili i suoi piloti quelli che cercavano di abbattere gli ufo e non ci riuscivano quindi non testimoni a terra cittadini i piloti degli stati uniti d'america militari ma il generale dice attenzione non sono sviluppi segreti di armi nostre ma da attenti analisi possiamo con assoluta certezza dire che questo fenomeno ha premetto il generale dice sono qui per parlare dei cosiddetti dischi volanti quindi subito dice qual è l'argomento se volete dopo magari ve la faccio vedere questa intervista e chiude dicendo questi mezzi non sono assolutamente una minaccia per gli stati uniti d'america ora la rivelazione della marina cioè che veramente questi mezzi sorvolano i nostri cieli è iniziata a dicembre del 2017 quando il ministero della difesa americano quindi il pentagono chiama il new york times che il suo organo civile diciamo così quando il pentagono deve dire qualcosa pubblico la fa attraverso il new york times e attraverso il new york times il pentagono dice abbiamo avuto un programma segreto segreto di studio sugli ufo che adesso chiamano wap perché sono andati a paperopoli hanno parlato un paperino e quindi wap wap il programma di ricerca diceva la notizia è stato chiuso finanziato con milioni di dollari è durato alcuni anni e il programma si chiamava dice la notizia studio sulle minacce aere avanzate minacce come minacce esiste un altro documento desegretato è un memorandum scritto da uno scienziato destinato ad ambito scientifico e militare è pubblicato l'otto luglio pubblicato internamente ovviamente quindi all'interno dell'ambito militare scientifico e scientifico ma non tutti datato 8 luglio 1947 dove questo scienziato che sappiamo essere stato anche direttore di due università americane in nove punti ribadisco documento pubblicato dall' fbi nel 2011 quindi un sito ufficiale dell' fbi americana federal bureau of investigation in nove punti questo scienziato spiega la visita extraterrestre chi sono gli extraterrestri e cosa vogliono al punto 2 questo scienziato scrive la loro missione è di pace essi contemplano sull'assestamento di questo piano ora questo piano esistenziale chi lo sta dissestando noi quindi dal 1947 i militari sanno chi sono perché vengono e cosa vogliono non sono i grigi dice il documento sono umani come noi sono solo più alti quando esce questo documento io impazzisco perché proprio quel giorno esce sul daily roswell record che il quotidiano della piccola cittadina del new messico di roswell esce un dispaccio militare che dice abbiamo recuperato un disco volante in un ranch nella zona di roswell e io mi sono chiesto ma come facevano i militari il giorno che esce la notizia del recupero di un disco volante già questi sapevano tutto della visita extraterrestre e sto dilemma mi ha rovellato per alcuni anni fino a che non ho conosciuto un ex pilota militare che mi ha dato dei documenti desecretati da lui personalmente dove c'è che in realtà gli americani avevano il disco volante già dal 41 ed esisteva una fantomatica non si era mai saputo prima agenzia militare di nome unità studio fenomeni extraplanetari al che ho capito dal 41 al 47 con gli studi segreti fatti dai militari e dai servizi l'america già sapeva chi sono perché vengono e cosa vogliono perché parlano di minaccia nella rivelazione ufficiale parlano di minaccia perché quando gli extraterrestri ebbero un incontro tre incontri col presidente Eisenhower gli diedero un ultimatum nel momento che il presidente riferisce che i potenti che gli avevano pagato le elezioni i grandi elettori i cosiddetti non volevano il contatto pubblico che gli extraterrestri chiedevano e sappiamo che gli fu detto al presidente va bene presidente noi comprendiamo le sue difficoltà perché il presidente disse io non ho il potere di prendere la decisione ad autorizzare un vostro atterraggio tra l'altro atterraggio a richiesta degli extraterrestri che doveva essere anticipato da un programma di informazioni attraverso i media per preparare il pubblico ovviamente perché se il pubblico si vede atterrare i dischi volanti la prima cosa che pensa cos'è un'invasione quindi gli extraterrestri chiesero informate la popolazione noi faremo delle manifestazioni daremo la prova che siamo pacifici quando è tutto a posto atterriamo ufficialmente voi ci accogliete il presidente dice non si può fare e gli extraterrestri gli risposero va bene presidente comprendiamo le sue difficoltà ma riferisca vi diamo 50 anni di tempo per cambiare idea 1954-2004 scaduti 50 anni secondo la situazione che avrete voi nel vostro mondo noi decideremo autonomamente di atterrare senza chiedere il permesso a nessuno quindi noi atterreremo in caso di un grave pericolo per il pianeta e per l'umanità la casistica degli avvistamenti dal 94 95 al 2014 di oltre quasi circa 60 mila casi di avvistamento solo sopra gli stati uniti d'america tenendo conto che la maggior parte non riferisce ai giornalisti ai carabinieri alla polizia di aver visto quindi minimo il triplo 180 mila avvistamenti in meno di 10 anni quindi il potere che sta pensando questi a terra no e c'è un escalation di blocco di aeroporti civili in tutto il mondo lì ma in perù 21 ore di blocco sorvolo per 21 ore di una squadriglia di credo mi sembra 11 o 12 dischi volanti blocco dell'aeroporto di città del messico blocco dell'aeroporto tedesco di brema blocco dell'aeroporto della capitale indiana di nuova deli blocco di due importanti città cinesi angzu e chonking blocco dell'aeroporto di linate quindi di malpensa qui a milano è stato riferito dai giornalisti solo il primo giorno ma sappiamo che hanno continuato a bloccarlo nei giorni successivi quindi questo insieme di infatti sta facendo temere alla nato che gli extraterrestri stanno pensando di atterrare ora il potere ha cercato di capire come ragionano questi esseri e ha capito quello che io spiego da tanti anni questi esseri ragionano nei loro protocolli di contatto con la scienza dello spirito e quindi loro non violano il libero arbitrio cioè non impongono attraverso la superiorità scientifica dei loro straordinari mezzi volanti e dei loro stessi poteri personali non impongono con un atto di forza la loro presenza a meno di un gravissimo rischio di salvezza dell'umanità che ha pensato il potere tecnologicamente questi ci fanno ci piallano basta che atterrano non c'è più niente da fare allora hanno ragionato così se noi convinciamo tutta la popolazione mondiale che loro sono negativi nessuno vorrà gli extraterrestri e loro saranno costretti ad andarsene via e sapete cosa hanno pensato hanno pensato di porre in essere un programma che fu pensato nei primi anni 90 e ce lo rivelò all'epoca un importantissimo ricercatore americano che venne in italia a trovarci a sant'elpidio a mare pensate un po' che storia e ci disse che aveva avuto da fonti che lui aveva interne ai servizi che avevano pensato un programma chiamato blue beam raggio blu il programma blue beam è un attentato sotto falsa bandiera attraverso di finte navicelle extraterrestri e di proiezioni olografiche altamente sofisticate e attaccare delle città terrestri con tanti morti questo è il loro piano per questo a parer mio hanno incominciato a rivelare e sin dalla prima rivelazione parlano di minaccia ci sono personaggi di altissimo livello che anche in ambito di grandi consensi scientifici hanno detto ma come gli ufo ormai tutti lo sanno che sono qui ma sono una minaccia sono una minaccia per i nostri piloti sono una minaccia durante le esercitazioni militari dice la verità gli extraterrestri sono una minaccia per il potere che schiaccia i popoli quindi dicono la verità ma non per noi per noi loro sono i liberatori quindi vi sto dicendo questa cosa e poi introduco l'argomento perché hanno fatto una notifica ad altissimo livello usando l'ultimo film dell'uomo ragno è un condensato di simbologie esoterico massoniche pazzesco e si collega a tutta una serie di fatti che sto iniziando a spiegare perché se io riesco a convincere abbastanza persone di cosa hanno in testa questi criminali forse non lo faranno perché se siamo abbastanza a desiderare che questi esseri atterrino loro atterreranno e quelli se la pigliano in saccoccia come si dice da poco pochi giorni fa ho incontrato a milano il presidente della George Adamski Foundation George Adamski è stato un grandissimo contattista polacco americano e lui da bambino frequentava Adamski perché il padre Fred Stakeling era un amico intimo di George Adamski infatti mi ha fatto vedere si chiama Glenn mi ha fatto vedere delle cose che erano proprio oggetti posseduti da George Adamski e gli ho detto Glenn che ne pensi l'ho intervistato e gli ho chiesto che ne pensi di questa rivelazione del Pentagono mi ha detto guarda qualsiasi cosa loro faranno comunque è sempre a loro vantaggio e a nostro svantaggio quindi stati attenti amici adesso a novembre terrò ad Ancona una conferenza pubblica dove esporrò tutti i fatti pubblicando dei piccoli reperti di qualche recupero materiali particolari metamateriali si chiamano e sono materiali leghe per noi assurde cioè leghe che uniscono materiali per noi assurdi cioè delle leghe che noi non riusciremmo a fare comunque questo discorso lo presenterò il 16 novembre ad Ancona quindi seguitilo in streaming sarà libero perché è molto molto importante tra l'altro le cose che esporrò e che sono state messe nel film dell'Uomo Ragno perché la Marvel è un braccio del Pentagono per questo possono girare le riprese nelle importanti basi militari che poi compaiono nel film White Sands eccetera lì non c'entra nessuno entri solo se hai delle autorizzazioni particolari e quindi ci sono all'interno del film delle recentissime scoperte fatte da un ex magistrato italiano scampato alla strage di Pizzolungo il dottor Carlo Palermo nel suo libro La Bestia lui rivela di aver scoperto un'elite al di sopra dell'elite di pochissime persone che hanno in mano il mondo una super massoneria che parla solo attraverso linguaggi criptici anche quando ci sono sacrifici tipo l'omicidio di Aldo Moro c'è tutta una coreografia che solo gli iniziati di quel livello comprendono e che Carlo Palermo con le indagini a partire da quando subì l'attentato negli anni Ottanta è arrivato a capire questa super cupola e ne parlò col magistrato Imposimato Ferdinando Imposimato che prima di morire Imposimato gli disse attenzione Carlo non fare l'errore che facciamo sempre noi di tenere tutto segreto fino a che non c'è il dibattimento in tribunale pubblica tutto perché queste cose si devono sapere Carlo Palermo gli ha dato retta e ha pubblicato questo libro che si intitola La Bestia dove lui racconta delle cose impressionanti di questa ragnatela di questa rete di morte di criminali che di fatto abbraccia tutto il mondo Ora qualche giorno fa c'è stato un istituto di Zurigo, Svizzera che si è messo in testa di capire in mano a chi è il pianeta e hanno incominciato a fare una ricerca studiando i collegamenti tra le varie multinazionali e sono arrivati ad una conclusione il mondo è in mano a circa 700 persone 700 700 persone hanno in mano 7 miliardi di esseri umani e sono dei criminali sono degli assassini sono loro che a fronte della dichiarazione di Mario Draghi che dice la BCE non può fallire perché ha risorse illimitate sono loro che impongono che queste risorse illimitate a noi non arridino e quindi questi mostri programmano la morte per fame di milioni di bambini questi mostri programmano la distruzione degli stati questi mostri programmano la distruzione della scuola delle democrazie questo discorso lo fecero gli extraterrestri circa 40 anni fa dicendo il mondo è in mano a 600 persone alla lettera pazzesco non era prettamente l'argomento di oggi ma ritengo sia importantissimo dire perché nel film dell'uomo ragno il malvagio dice ci saranno tanti morti ed è meglio più morti ci saranno più la gente ci crederà dobbiamo stare attenti questi sono criminali amici non hanno pietà sono bestie feroci senza cuore non sono come noi sono una mutazione orrorifica dell'essere umano non pensate che ragionino con le nostre teste esiste un monumento che è stato eretto negli anni 80 si chiama le Georgias Guide Stones le pietre guida della Georgia è stato eretto da una massoneria sconosciuta da un tizio che era l'acronimo cioè era praticamente le iniziali del supergruppo massone dei Rosa Croce Cristiano Rosenkreuz in questo monumento c'è scritto che la popolazione mondiale deve essere portata a mezzo miliardo e lo stanno facendo con la mala sanità con l'inquinamento dei cibi con i cosiddetti vaccini che tutto sono tranne i vaccini eccetera 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 non c'è il vaccino c'è di tutto stringhe di DNA cancerogeno cellule morte c'è DNA di falene DNA di scimmia ora il problema non è il vaccino il problema è cosa c'è dentro la siringa questa è la domanda giusta non se c'è il vaccino cosa c'è? mi dici la composizione? nei miei trent'anni di ricerca la cosa più difficile da digerire da accettare non è stata la presenza extraterrestre è stata quella di scoprire che esistono esseri umani mostruosamente crudeli questo mi ha scioccato è un fatto io so da tanti anni adesso stanno emergendo perché il loro potere è in pericolo per questo ci stanno schiacciando sempre di più a me piaceva il premier Conte ma gli vorrei chiedere senta signor Conte ma perché ci dite sempre che non ci sono i soldi per la scuola non ci sono i soldi per le pensioni e lui ha promesso 7 miliardi di euro in più di spese militari alla Nato ma allora i soldi ce li avete per quello che vi serve a voi 7 miliardi di euro di spese militari in più l'Italia spende quasi 70 milioni di euro al giorno per stare nella Nato al giorno fate un po' di conti e poi ci vengono a dire che non hanno i soldi ma c'è Marietto il draghetto la BCE ha risorse illimitate a Marietta daccili sti soldi che non? Grazie.